Quello che vi mostrerò oggi, e in una slide spiegheremo anche perché, non è ovviamente la definizione di un piano operativo, non è la declinazione di quale unità operativa andrà a lavorare dove, da che giorno, con quanto personale e chi sarà il capo. Già non mi piacerebbe neanche esposto così. Non è niente di tutto questo, per varie ragioni, innanzitutto perché la sede non è ora questa, e soprattutto perché per molti aspetti, pur non potendolo fare in un momento in cui il contesto è fortemente in movimento, per ragioni che anche vedremo, ci sono degli aspetti che per noi sono più importanti. E spero siano più importanti anche per voi, perché vengono prima. Sono le condizioni che vengono prima di qualunque disegno, di caselle organizzative, di modalità rispetto all'assetto organizzativo che sceglieremo di darci. La intensità del cambiamento che si è realizzato in questi due anni penso che spieghi quanto sia difficile oggi congelare in qualunque fotogramma una condizione e immaginare che fra tre mesi sia possibile riprodurla esattamente per come noi l'abbiamo immaginato. Il mondo e le condizioni di contesto cambiano molto più velocemente di quanto sia la nostra capacità di immaginarci. Quindi, come posso dire, da una parte dobbiamo prendere atto della necessità di rivedere continuamente il nostro pensiero. Dall'altra parte, come veniva detto prima, condivido. Dobbiamo pensare, desiderare di avere una direzione in cui andare, senza avere alcuna certezza di riuscire ad arrivarci. E senza immaginare che questa strada sia una via, perché è una rotta, non è una via. È fatta di momenti in cui si va a destra, a sinistra, si torna indietro, ma che la direzione esiste e che le condizioni che determinano questa direzione, che sono le cose di cui parleremo, questo verso di marcia, siano le condizioni dentro le quali agiremmo poi tutti gli aspetti organizzativi e di dettaglio, che in altre sedi, in altri contesti, che non sono questi, perché non siamo solo noi. a deciderlo, perché questo va deciso con istituzioni, enti, con i quali noi collaboriamo, con la società civile, con la comunità. Non possiamo farlo neanche al chiuso di uno spazio pur così grande come questo cinema. Però possiamo parlare di elementi che qualcuno definirebbe soft, ma che sono fondamentali per la nostra organizzazione, perché sono poi lì senza i quali tutto il resto non si riesce a fare. Abbiamo usato diverse volte questa nostra parola d'ordine, generatore di salute per i cittadini. È inevitabile, se qualcuno non l'avesse percepito questa sensazione, credo che la percepirà. Noi siamo qualcosa di profondamente diverso, io sicuramente sento che lo siamo dal primo giorno in cui io sono arrivato, ma non perché sono arrivato io, sento di essere cambiato, sento che tante cose sono cambiate, ma siamo qualcosa anche di profondamente diverso dal primo gennaio di quest'anno. Siamo profondamente diversi e non è un tema di sottrazione o di aggiunta. Non abbiamo sottratto un ospedale, sottratto del personale, aggiunto, siamo un'altra cosa. Siamo un'altra cosa e lo siamo per noi e lo siamo per il mondo esterno. Siamo, mi permetto di dire anche da un punto di vista professionale, per quelle che sono le nostre parole chiave, ci si aspetta che noi siamo di più, che noi si sia in grado di essere di più di quello che siamo stati. Perché di più, più complesse, più articolati sono le domande, i quesiti, le esigenze, i dubbi, le difficoltà, i rischi che il mondo ci propone, avendoci messo il contesto per una serie di ragioni, in una condizione di essere più in grado di governare una serie di elementi che hanno a che fare con la salute dei nostri cittadini, con il benessere di una comunità di cui noi facciamo parte. Salute è ancora poco, è un pezzo di come stare dentro questa comunità. Non ho capito ancora dove lo devo puntare. Giù, su, qua. Noi ci muoviamo in un contesto di cui abbiamo già parlato, nel quale è un concetto che mi sta molto a cuore. Siamo nelle condizioni di essere cose molto diverse. Anche voi durante il vostro lavoro quotidiano vedete persone con caratteristiche molto diverse, famiglie con caratteristiche diverse, pazienti con caratteristiche diverse, colleghi con caratteristiche differenti, è molto difficile, è impossibile, non è neanche giusto, non è neanche sarebbe la risposta corretta, quella di semplificare, banalizzando. E ci viene chiesto di essere cose diverse, nello stesso contesto organizzativo, di saper offrire delle risposte di carattere differente, che si muovono all'interno dello spettro identificato da queste tre, chiaramente, modellizzazioni, quelle di un'agenzia di servizi sanitari, in cui noi non facciamo più nulla di quello che abbiamo fatto nei vent'anni precedenti, in cui mettevamo con attenzione o più, maggiore o minore, in fila le cose che un cittadino poi a una famiglia dovevano spiegare di fare, ma ci viene chiesto di mettere i cittadini nelle condizioni di scegliere in modo indipendente come costruire il proprio concetto di salute, il proprio concetto di benessere all'interno della comunità. Noi forniamo gli strumenti per integrarle, siamo davvero al massimo nell'espressione del nostro ruolo di agenzia, non di agente ma di agenzia. Mettiamo a disposizione quello che il cittadino ritiene di poter utilizzare e voler utilizzare per costruire le proprie condizioni di benessere, naturalmente all'interno di una serie di elementi che pure sono, diciamo, quelli del sistema universalistico nel quale però il cittadino entra e esce. Anche noi quando facciamo questo, entriamo, usciamo dal pubblico, facciamo scelte diverse, mettiamo insieme opportunità differenti in luoghi diversi, in momenti diversi. E dall'altra parte, dall'altro capo, c'è quello che tradizionalmente e ancora a mio avviso opportunamente ci viene chiesto di fare per una popolazione che ha assolutamente necessità di non essere abbandonata mai, per varie ragioni, perché non è in grado di fare l'operazione descritta a sinistra e quindi ha necessità che noi facciamo per loro un'operazione che è quella di mettere insieme tutti i pezzi di un percorso lungo, complesso, difficile, come può essere per alcune tipologie di cittadini, per alcune tipologie di famiglie, per alcune condizioni patologiche, che è quella di mettere insieme tutti, comporre, come quello che noi chiamiamo percorsi di cura, percorsi in cui noi prendiamo in cura il paziente e il cittadino incaselliamo le varie fasi e i vari momenti al suo posto, svolgendo un ruolo di tutela e di garanzia. E in mezzo a questi due estremi ci sono tutte le condizioni più diverse in cui i cittadini si differenziano con gradazioni diverse nel muoversi fra una condizione che è di più, posso dire, stampo tradizionalmente assistenzialista e l'altra che è di stampo assolutamente più evoluto e liberista. E questo non soltanto dal punto di vista degli aspetti di carattere tecnico, ma anche, logicamente, ed è giusto che sia così, anche dal punto di vista, come posso dire, della maturità che una comunità costruisce intorno a sé. Quindi abbiamo bisogno... Ho sottato una depositiva? Sì. È evidente che le ragioni per cui noi non siamo nella condizione, non vogliamo esprimere quella descrizione così didascalica, scolastica e articolata, che riguarda il dove lavorerò domani o di quale pezzo di articolazione farò parte. Questo è evidentemente dipendente dal fatto che esistano una serie di condizioni che non sono questo luogo, ma vorrei che fosse evidente in che luogo siamo oggi. Siamo nel luogo nel quale, come un osmosi, come la capacità di collegare due contenitori che l'un con l'altro si condizionano rispetto a degli elementi che a volte sono di vincolo, a volte sono di opportunità, a volte non dipendono da noi, a volte sono scelte da fare con gli altri, trasferiamo quelle che oggi appunto sono le nostre opportunità, le nostre visioni, la nostra capacità di leggere, il modo in cui noi siamo in grado di generare valore all'interno di una serie di indicazioni di cui oggi, quelle a gialle, alla vostra destra non parleremo, perché non sono tutte nella nostra disponibilità. Per assumere questo ruolo che è molto diverso da quello che per tanti anni abbiamo immaginato e che ancora per molti di noi, ma anche fuori dal nostro mondo, si immaginano che noi si debba essere, c'è chi si stupisce che la pubblica amministrazione abbia una visione, abbia una strategia, abbia un'idea di quello che vuole essere. C'è chi pensa che la pubblica amministrazione sta lì per produrre servizi, punto. E non è così, certo, produciamo anche servizi di alta qualità e come? Dipende che cosa intendiamo per produrre servizi e in quale contesto, soprattutto di cognizione, noi ci mettiamo l'idea di attività di servizio. Di essere servitori, come diceva la dottoressa Agostinelli, dell'organizzazione. Lo spirito di civil servant, come dicono gli inglesi, di servitore civile nei confronti della comunità, dei colleghi, dei cittadini, questo sì. Ma non solo di servizio, nel senso di produco prestazioni, finisce la mia attività, io sono un'attività di servizio a fare questo. No, noi vogliamo avere un'idea di futuro da interpretare. Va bene, il tempo che vi prendo è diviso in due parti. Una più breve, questa, che è una sintesi brevissima di cose che sono successe nei due anni che hanno preceduto la giornata odierna, è qualcosa invece di più prospettico che riguarda i prossimi tre. Il mio orizzonte è 2020, non personale, spererei anche un pochino più lungo, ma il mio orizzonte professionale è 2020. Nel senso che non è opportuno e non è importante chi esprima cosa vorrei e cosa non vorrei per me. È importante che noi ragioniamo che cosa si vuole per il territorio per il quale noi serviamo i cittadini. E quindi la seconda parte riguarda i prossimi tre anni, la prima parte riguarda i nostri due, tra appena trascorsi. Questa una volta si chiamava piramide, adesso si chiamava fungo, secondo me, perché di piramide c'ha poco, il fungo demografico, non quello nucleare, e il fungo demografico che tende, come si vede, ad assumere sempre più una disposizione a fungo o a pino, ad albero, insomma, come si vuole, e sempre più avrà queste caratteristiche. Questo è quello che è successo nella nostra azienda per alcuni macro indicatori, che però è importante, di quali prendiamo visione, perché è il contesto nel quale si realizzano le cose che abbiamo detto noi vorremmo fare. Questa che voi vedete è l'evoluzione dei costi pro capite nella nostra provincia. In alto a sinistra c'è l'integrazione dei costi pro capite che l'azienda USL ha avuto negli anni dal 2013 al 2015 in rapporto ai costi pro capite regionali, senza l'integrazione con l'azienda ospedaliere di riferimento, e sotto il pro capite totale, scusate, in alto a destra con l'integrazione con le aziende ospedaliere di riferimento, in basso a sinistra, azzurro arancione, il costo pro capite totale. I grafici hanno di bello che non c'è bisogno di spiegarli, e quindi credo che tutti quanti possiate vedere che sicuramente la spesa pro capite è aumentata in tutta la regione, ma che è la nostra spesa pro capite nel 2015, per la prima volta il nostro pro capite totale. Senza l'integrazione è stato più basso del pro capite allineato sul pro capite regionale, e che il pro capite totale ci vede aumentare la distanza dal costo medio pro capite della regione. Questo vuol dire che siamo stati in grado di spendere i soldi, vedremo dopo come, allontanandoci in positivo, cioè spendendo meno, di quanto spende nella media regionale. In modo sempre più evidente, perché vedete che la distanza delle colonne dal 2013 al 2015 aumenta. A destra in verde invece potete vedere un elemento importante che condiziona, per tanti aspetti che non sottolineò, perché sono chiari a tutti, l'andamento demografico, non soltanto per il tema del fungo, ma anche per il tema banalmente dei numeri. La nostra regione perde abitanti, soprattutto in alcune province, e la nostra provincia è una di queste province, vedete la colonna a sinistra è tarata, quella verde chiaro sulla popolazione della regione, quella a destra verde scuro sulla popolazione della provincia di Modena. La provincia di Modena è una popolazione che purtroppo, qui secondo me c'è un errore, ah perché è pesata, scusate, perde il numero, noi abbiamo perso in tre anni circa 3.500 cittadini, questo è il procapite pesato per l'età, e quindi vuol dire che abbiamo aumentato la nostra popolazione in funzione dell'indice di invecchiamento. Quindi abbiamo una condizione in cui il denominatore della popolazione diventa più piccolo e al numeratore ci sono sempre più persone che hanno una serie di esigenze e di bisogni che rendono il raggiungimento di questi obiettivi estremamente difficile se appunto noi non immaginiamo, pensiamo di fare cose diverse rispetto a come le abbiamo fatte finora. Questo è il nostro piano di rientro, sostanzialmente, anche se nessuno l'aveva chiamato così, ma di fatto era il nostro piano di rientro. Era il prestito che la Regione ci faceva nel 2014, il prestito che la Regione ci ha fatto nel 2015, il prestito che la Regione ci ha fatto in previsione nel 2017. Come posso dire? Se questo è un piano di rientro, siamo rientrati, stiamo rientrando, come si dice con i figli a casa. Stiamo rientrando, siamo in fase di rientro. E questo grazie a un impegno ovviamente di tutta l'organizzazione che ha fatto sì che il prestito che la Regione ci faceva per mantenere in equilibrio il nostro bilancio si sia ridotto in maniera estremamente rilevante dagli anni del 2014 al 2017. Non è un prestito, vi posso garantire che non è un prestito a babbo morto, il prestito che la Regione fa rispetto al mantenimento delle condizioni di equilibrio. è un prestito vincolato, non mi permetterei mai di dire che sono condizioni di usura, perché non lo so, ma è un prestito sicuramente vincolato al raggiungimento di risultati progressivamente più soddisfacenti di quello che abbiamo fatto. Purtroppo c'è anche la colonna azzurra, che però va letta nel senso che uno dice Sorbole, il 2017 è veramente un brutto anno. Manca tutta la quota di finanziamento che si sposta insieme all'ospedale di Baggiovara. Quindi è vero che nel 2016 abbiamo avuto un po' di finanziamento in meno rispetto al 2015, il finanziamento del 2017 è all'ordo dell'operazione Baggiovara uguale a quello dell'anno precedente. Ha però questo andamento perché da quel finanziamento vengono tolti fin dall'inizio i costi che dobbiamo trasferire, i finanziamenti che sostengono i costi che dobbiamo trasferire all'azienda ospedaliera insieme a tutto il resto. In realtà la colonna 2016 e la colonna 2017, se Baggiovara fosse dentro, sarebbero uguali. Non sono uguali perché Baggiovara non c'è dentro. Quindi finanziamento sostanzialmente stabile, piano di rientro sostanzialmente completato e questo affronte, questi sono gli indicatori Siver, sono stati indicatori della Grigliadea anno 2015, ci sono soltanto le aziende territoriali, questo è il risultato che è l'azienda di Modena, misurata dalla regione, quindi non siamo noi a misurarci. Avevo già mostrato questo dato, è un dato aggiornato, si colloca rispetto alle altre aziende, USL, le aziende territoriali della nostra regione. questo è quello che abbiamo fatto nel 2015 o nel 2016, ancora i dati non ci sono. Questi sono i risultati misurati dall'organismo di valutazione regionale in rapporto al piano della performance aziendale. Ho sentito che qualcuno parlava di Green Code, oggi, e devo dire che effettivamente devo dire che tutti quanti quelli che sono qui oggi e i vostri colleghi in questo momento non possono essere qui perché sono al lavoro, hanno sicuramente la soddisfazione di sapere che tutto il lavoro che viene fatto nel momento in cui viene rilevata la qualità dei nostri servizi porta a questi risultati. E il coniugare il tema del piano di rientro con i risultati di questo tipo, e come potete vedere dall'arcobaleno, non è così omogeneo il risultato, porta con soddisfazione a dire che l'impegno quotidiano, la straordinaria quantità di lavoro intellettuale, materiale, che è stato fatto da tutti quanti voi, è in grado di essere oggettivato e di produrre risultati. Questo è il bersaglio del Sant'Anna. Sembra sostanzialmente sovrapponibile, ma vi prego di notare che i pallini in area arancione e rossa sono nettamente meno. E quelle sono le aree nelle quali è distribuita la misurazione degli indicatori nel laboratorio del Sant'Anna di Pisa. Questo è il green code della specialistica ambulatoriale. Quel giallo lì è costato caro a qualcuno. Però va bene. Può succedere, purché sia una volta, una prestazione, una sola misurazione di una settimana. Questa è la rilevazione delle nostre ultime 5 settimane sulla specialistica ambulatoriale. Siamo in buona compagnia sulla specialistica ambulatoriale perché anche le altre aziende hanno ottenuto dei risultati importanti, ma queste sono le nostre ultime 5 settimane sulle 42 prestazioni monitorate. e quindi questo conferma la qualità del lavoro che a tutti i livelli viene fatto. Non devo spiegarvelo perché sono sicuramente le cose con le quali giornalmente vi confrontate. Adesso arrivano i tempi di attesa sui interventi chirurgici. dove si è nascosta la grassi. E' già lì che è a fila. Abbiamo fatto anche una serie di altre cose che avete visto anche nel filmato introduttivo. Immagini molto belle di cui ringrazio Antonio Pignatiello e Giovanni Coglitore e Massimiliano Laviola e Matteo Giannacco che diversamente hanno raccolto le immagini. Poi Antonio Pignatiello le ha montate e hanno fatto un bellissimo storytelling a mio avviso di quello che è successo in questi due anni. Abbiamo fatto una serie di cose nel 2015, nel 2016 e anche già nel 2017 che molti di voi hanno partecipato a questa scansione temporale. questo riguarda ovviamente progetti che non sono soltanto di edilizia ma sono progetti di contenuto quando parliamo di Casa della Salute qualunque essa sia grande o piccola parliamo soprattutto di un progetto che credo che abbiamo saputo interpretare che stiamo sapendo interpretare dandogli un senso la cosa più difficile e ci terrei a dirlo grazie a tutti voi grazie agli specialisti ambulatoriali grazie alla medicina generale perché quando diciamo che quando intendiamo lavorare insieme intendiamo anche questo che solitamente rappresenta un elemento di difficoltà abbiamo anche un direttore di ristretto della specialistica ambulatoriale dove è rotta e se scarica non è ancora qui abbiamo ancora un medico di gioco generale ma non è detto non è detto perché sono uno che mi piacciono le sorprese quindi non si sa ancora faremo delle altre cose negli altri tre anni non solo queste queste di sicuro alcune le stiamo facendo nel senso che frapposa della prima pietra chiusura della prima porta apertura della seconda porta e quant'altro sapete ci siete anche molti di voi ci sono in mezzo insomma abbiamo una serie di cose da portare a compimento che di nuovo sono progetti qui era difficile evidentemente elencare tutto il contenuto sapete molto bene delle cose sulle quali siamo fortemente impegnati abbiamo un accordo di programma che stiamo realizzando a Carpi importante un accordo di programma che riguarda Modena molto difficile oneroso faticoso ma anche di grande soddisfazione abbiamo in programmazione altre case della salute stiamo cercando di lavorare per riuscire a concretizzare anche degli altri progetti che qui non ci sono anche nel distretto ceramico sono convinto che ce la faremo diciamo che abbiamo messo le cose sulle quali abbiamo in questo momento elementi di maggiore certezza e abbiamo avuto anche come avete visto un riscontro molto positivo sulla stampa rispetto al lavoro delle case della salute a come lavorano a come danno soddisfazione e non soltanto a noi ma anche ai sindaci ai cittadini e questo ovviamente per noi insieme alla soddisfazione dei professionisti è la cosa più importante poi avevo detto alla Manuela Carobbi che non l'avrei fatto vedere ma invece no gli avevo detto no non lo facciamo vedere avevo detto no ma facciamolo vedere questo è l'andamento dei rilievi e dei reclami del 2015 e 2016 su alcune cose che succede? ah ecco più grande su alcune cose diciamo che abbiamo proprio invertito alcune tendenze su altre cose ci limitiamo a registrare il dato per quello che può valere continuiamo a lavorare non c'è dubbio che alcune pendenze in senso i gradi di pendenza siano interessanti rispetto al loro andamento per cui osserviamo con attenzione questo fenomeno non lo osserviamo in realtà ci stiamo pesantemente lavorando tutti tutti nessuno escluso per il momento lo osserviamo se si conferma evidentemente vuol dire per noi qualcosa per tutti noi soprattutto vuol dire qualcosa per i cittadini questi sono i due anni 2015 2016 i primi tre mesi 2017 adesso vorremmo parlare dei prossimi tre io spingo eh sì c'è un mondo là fuori e anche se decidete di non volerlo incontrare comunque vi colpirà dritto in faccia credete dunque è meglio cominciare a pensare al mondo ora a cosa vuol dire per voi che significa il mondo per ognuno di voi cos'è che il mondo si aspetta da te niente niente mio dio ragazze e ragazze ha assolutamente ragione niente questo è il vostro compito avrete un voto e vale per tutti là no non ci sarebbe no no un momento cos'è cos'è che non va qual'è il problema si è tipo così così come ci sarà una parola per finire la frase qualcuno l'aiuti strano pazzesco pazzesco faticoso barboso barboso faticoso che ne dite che ne dite di possibile è possibile il regno della possibilità esiste dove in ognuno di voi perciò potete farlo potete sorprenderci aspetta a voi o potete starvene imparati e lasciarlo atrofizzare cosa ha fatto lei per cambiare il mondo cosa ha fatto la notte dormo bene faccio una colazione abbondante arrivo sempre puntuale e poi passo la palla a voi allora adesso scriverete il vostro nome su questi libri e tu come ti chiami? Paul questo sono io e queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto ma deve essere una cosa molto importante una cosa che non possono fare da sole perciò io la faccio per loro e loro la fanno per altre tre persone siamo a nove e aggiungo tre a ognuno fanno venti sette per cento non sono forte in matematica ma la cosa aumenta molto in fretta capisce? e poi va bene va bene va bene articolate le vostre idee per favore sì? per me è una buona idea John? è stupida Adam? c'è di mezzo l'onore non importa nessuno dell'onore e con questo tu sei così bene Trevor la classe di tiene mi sembra di capire oltremodo utopistica la tua idea cercherete questa parola tra un momento tipo un mondo perfetto e allora? allora come ti è spuntata in testa? perché tutto quanto è uno schifo arrivo la mattina faccio ancora dopo passo la palla a voi è così è così nel senso che ovviamente non c'è nessuno di noi che può non prendere la palla per fare quello che Norman faceva vedere nel filmato di questo contagio bidirezionale di lavorare fra persone per le persone avendo col solo scopo di aiutarne lui ipotizzava almeno tre e questa cosa se si diffonde ovviamente cambia cambia tutto come ci torneremo alla fine solo un minuto abbiamo cercato di rappresentare quello che noi in quel contesto di un mondo che cambia al quale noi vogliamo partecipare ci interessa particolarmente sottolineare abbiamo identificato delle parole chiave che poi sono anche quelle presenti al nostro piano della performance abbiamo creduto e crediamo che sia possibile che sia necessario costruire affinché uno sforzo collettivo abbia un significato abbia un senso riconoscerci tutti quanti in qualcosa che non è esclusivo io non ci credo non ci ho mai creduto che le aziende potessero avere un senso identitario totalizzante però credo fortemente che le aziende possono avere un senso identitario che si aggiunge al proprio e ai propri sensi identitari ognuno di noi è varie cose è medico è psicologo è nato a Sassuolo è iscritto al circo della caccia è tifoso dell'Inter e e lavoro nell'azienda US di Modena se invece mi avessero detto qual è la tua caratteristica istintiva lavoro nell'azienda US di Modena non ci crede nessuno però tutte queste cose insieme sì io credo che questo sia un obiettivo possibile se anzi si è realizzato uno degli elementi identitari che connotano un'infinita serie di elementi di identità che sono una ricchezza dentro l'organizzazione la differenza non la diseguaglianza la differenza una grandissima ricchezza per noi una straordinaria opportunità per rendere uno sforzo da individuale in collettivo e proprio l'inclusione delle nostre differenze considerate una ricchezza la capacità di quello che si chiama ascolto collaborazione la capacità di non chiudere le orecchie e di non considerare come diceva la giovane collega di Norman il valore non ha senso e lui gli ha risposto tu sei così di esercitare un significato sociale rispetto alle cose che noi crediamo facciano la differenza tipo appunto appartenere a una collettività di individui in cui l'inclusione rappresenti un valore e attraverso questa realizzare innovazione perché tutti hanno delle buone idee tutti io sono certo perché l'ho provato come credo siate certi voi l'ho provato in questi due anni ho sentito buone idee provenire da ovunque non non ho una fonte principale di buone idee e penso che ci sono persone in questa sala che che sanno che è così perché l'hanno provato rispetto a me ma rispetto anche alla loro vita professionale io non ho un canale da cui vengono buone idee ho una serie di persone che che ogni giorno lanciano delle idee 90 non sono buone e 10 sono buonissime cioè 10 sono buone e una di quelle 10 è buonissima e e per sapere fare questo per costruire innovazione su questo perché le persone hanno idee tutti hanno ed è straordinaria possono avere idee straordinarie bisogna ascoltare e come mi è capitato anche di scrivere su facebook è inutile che costruiamo dei posti per ascoltare se non ascoltiamo allora non li costruiamo i posti per ascoltare se sappiamo già che non vogliamo sentire la seconda la citata la dottoressa Costinelli non c'eravamo messi d'accordo perché la presentazione non l'aveva vista però è teamwork e ha già detto tutto lei quindi io non solo condivido non ho granché da aggiungere non c'è niente di automatico ma abbiamo di fronte per ragioni che non ho bisogno di dire in questa regione e in altre regioni abbiamo la necessità di sprigionare le nostre capacità che sono straordinarie quando lavoriamo insieme quando ci ascoltiamo rispetto ai contenuti professionali e quando sappiamo generare una professione che prima non c'era ieri sera finendo di lavorare tornando da lavoro in stazione ho incontrato una persona con la quale avevo un appuntamento di lavoro e gli ho fatto una proposta di lavoro e mi ha risposto ma questa professione non esiste non esiste questa cosa che lei mi sta descrivendo è una cosa che non esiste e io ho detto sì lo so infatti non esiste credo che non esista ancora di sicuro io testimonio che noi abbiamo bisogno di una cosa non so se esiste professionista in grado di farla secondo me sì penso di sì comunque credo che valga la pena di provare perché invece il fabbisogno esiste il fabbisogno c'è e quindi perché non provare partendo da alcune competenze poi stanotte devo averci pensato stamattina ho trovato un sacco di link mi ho mandato un sacco di link su internet dove mi dice ma era questo tipo di professione a cui pensavo non dico di più perché ed era esattamente quello avevo esattamente compreso guardare il tipo di valenza professionale che era un insieme di tante cose di tante professioni che non riesco a trovare né in un singolo individuo ma che so che sono presenti in diverse professioni noi abbiamo bisogno di tutte e due le cose di professionisti che smettano di essere solo una cosa e di professionisti che continuino a essere quella cosa insieme agli altri che sono una cosa diversa da loro ma uguale nel senso che puntano lo stesso obiettivo questo è i nostri cittadini questo è chi lavora con me dov'è la dottoressa Capogreco l'altro giorno mi ha detto da quando lavoro con lei sono diventata cattivissima con i customer service sono i nostri cittadini il rapporto che abbiamo con loro un rapporto che abbiamo raccontato in termini di servizio questa è la ripresa fatta in un altro modo da un lato il paziente massimamente evoluto dall'altra parte il paziente del quale dobbiamo fare advocacy perché non è in grado da solo né lui né la sua famiglia per varie condizioni nel contesto in cui vive di risolvere i problemi affrontare i temi che la salute i temi di salute e i problemi di salute possono pogli dall'altra parte abbiamo i cittadini per i quali noi facciamo integrazione avanzata diciamo noi abbiamo questi pezzi ti metto a disposizione anche degli strumenti per collegarli poi tu li metti insieme come vuoi se vuoi qui tanto lui comunque lei lui fanno comunque quello che vogliono è meglio esserci è meglio esserci è meglio essere presenti generare valore anche perché l'atteggiamento guardate rispetto a questo nel servizio sanitario è sempre stato quello di dire ma questo è mercato non è servizio sanitario universalistico è un'altra cosa sì infatti non è servizio sanitario nel modo tradizionale è un'altra cosa ma tutto è un'altra cosa non siamo amiche nel 1978 qualcuno dirà purtroppo quelli quelli che sono nabili dopo il 2000 diranno ma che è il 78 che è successo nel 78 è meglio esserci è meglio esserci e avere un ruolo che ci venga riconosciuto che non ci viene riconosciuto non ci viene riconosciuto perché se noi facciamo qualcosa di evoluto da un punto di vista della relazione lasciamo stare adesso gli aspetti di carattere tecnico professionale l'intervento chirurgico complesso la prestazione di counseling infermieristico il parto fisiologico lasciamo stare questo lo facciamo bene non mi sto riferendo a questo non sto parlando di questo se noi diciamo cittadino che possiamo essere in grado di dialogare e scegliere insieme quale sia la cosa migliore di non lasciarlo davvero solo nella scelta o di poterlo mettere di fronte a più opportunità e di essere capaci di correggere un errore che noi abbiamo compiuto di nuovo non parlo di errori professionali ma parlo di quegli errori organizzativi che n volte per i quali i cittadini ci fanno segnalazione cittadino questa cosa non solo non se l'aspetta non ci crede non ci crede noi abbiamo vissuto recentemente un episodio simpatico sul che io raccontavo ieri simpatico sempre nel nostro lavoro nel nostro lavoro che fanno i colleghi di social customer service in cui abbiamo avuto un cittadino che ha segnalato un problema su facebook e noi l'abbiamo intercettato e l'abbiamo credo risolto in meno di 24 ore e uno dei commenti è stato eh ma bisogna segnalare per risolvere i problemi non lo so allora quando uno viaggia ho detto allora lost and found dei bagagli lo togliamo perché uno i bagagli non li deve perdere e quindi nessuno gli verrebbe in mente di dire l'ufficio lost and found non ci deve essere perché magari uno non li deve perdere se li perde succede qualcosa di immorale per cui niente bisogna dare fuoco all'aeroplano invece se lo facciamo noi il commento è ecco vedi tocca segnalare per risolvere un problema capito adesso questa cosa va bene l'anticipazione che è una cavolità però se un problema prima che si realizzi ci proviamo però questo dice molto dice che molte cose in principio non ci vengono perdonate in principio e io personalmente non ci credo che debba essere sempre così nel pubblico non soltanto il servizio sanitario io non ci credo che debba essere sempre così io credo che noi cittadini li possiamo servire e sorprendere in tanti modi servire nel senso civile che diceva prima l'ottoressa Costinelli e possiamo costruire un sistema che è in grado di essere responsivo di rispondere alle aspettative io dico sempre anche di superarle le aspettative di fare quello che non ti aspetti in enne condizioni che riguardano quello che vorremmo noi per noi per la confidenzialità che vorremmo noi per il senso di individuale di rispetto e dignità che vorremmo noi per la capacità di rispondere al singolo problema anche se prima non c'è stato non c'è mai stato per cui mi devo inventare una soluzione che è tipico delle organizzazioni molto evolute non è mai successo prima quindi no ce la possiamo fare se cogliamo che questa è un'esigenza è un diritto noi lo vorremmo come cittadini e non vogliamo non vogliamo nemmeno essere soli vogliamo fare di tutto perché la nostra comunità cresca insieme a noi io non vorrei lavorare come un cittadino non voglio non voglio essere un cittadino suddito quando vado all'ufficio postale a volte mi tocca e non vorrei essere un cittadino suddito del servizio sanitario vorrei essere un cittadino che ha bisogno di essere aiutato impara delle cose costruisce insieme al servizio sanitario insieme a noi nella comunità una competenza mi aiuta e mi dice anche di più e meglio le cose che è opportuno fare perché a un certo punto della sua vita le conosce meglio di me e questo succede in N campi che le conosca meglio di me le sa meglio di me le sa prima di me e in questo non è un paziente esperto è un cittadino che sviluppa i servizi meglio di come posso fare io perché li usa perché si interfaccia con noi come faremmo noi se qualcuno ci ascoltasse in qualunque altro dei servizi pubblici del nostro paese dice ma cavolo una planata sì perché questa è una cosa che ci aspetta quest'anno anche gli altri anni quando perché è quello che vorremmo anche noi ed è uno degli oggetti concreti in cui su cui dobbiamo planare su uno siamo planati già siamo anche atterrati come Salli sull'Alson e sull'altro dobbiamo planare come avete sentito dal presidente in picchiata perché è quello che è giusto perché è una operazionalizzazione dei contenuti più alti di cui stiamo di cui stiamo parlando il tema dell'accessibilità qui dichiarato in maniera molto evidente in altri contesti sicuramente più soft valori non ho bisogno di spiegarla abbiamo sicuramente sbagliato noi molte cose è più difficile certo avere un universalismo assoluto e perseguire le quality è più facile che perseguire le equiti faccio tutto uguale per tutti la risposta standard non dico il minimo la risposta standard non esiste la risposta standard non c'è un individuo di taglia media di taglia small di taglia large per quanto riguarda i servizi sanitari c'è per i vestiti e poi non c'è neanche esattamente un modello Taylor è perfetto questo sicuramente lo vogliamo fare perché il rischio non è il rischio la concreta preoccupazione che questo stia diventando un problema ancora maggiore di quanto fosse cinque anni fa è una condizione certa è certo che oggi noi siamo meno equi di cinque anni fa certissimo ed è più difficile accoggersi di dove siamo meno equi e vogliamo ossessivamente cercare di dare la possibilità le possibilità di pareggiare le possibilità di quelli che per varie condizioni queste possibilità non le hanno pareggiate il che non vuol dire far arrivare tutti allo stesso punto perché questo è impossibile perché c'è la genetica perché c'è il guadagno perché c'è la cultura ci sono tutte condizioni che incidono enormemente sulle condizioni risultati di salute però quello che dipende da noi sì quello che possiamo fare noi sì e poi c'è un ambito al quale tengo particolarmente che davvero fa in un sistema moralmente evoluto eticamente evoluto come il nostro come quello che abbiamo saputo praticamente solo noi e alcuni paesi del nord Europa mantenere perché ormai sono veramente pochi i paesi nei quali questo tipo di elementi sono tenuti in considerazione vogliamo lavorare per tutte le dimensioni dell'equità se oggi dovessi dire quali sono le tre categorie principali di persone ma è contestabilissima questa cosa la mia personale scelta di profilo se dovessi dire quali sono le categorie principali di persone per le quali oggi nella società avrei paura di non essere nelle condizioni di dare una risposta adeguata direi le donne i bambini i pazienti fragili e cronici e i cittadini che hanno rischio di esclusione sociale sono le tre recuperamenti di popolazione per i quali avrei più paura di non riuscire a creare quelle condizioni minime che competono a noi nell'ambito sanitario e sociosanitario a quali dare risposta risposta ai temi che riguardano sulla colonna delle ordinate l'accesso le pari opportunità rispetto delle condizioni di tutela della salute prima che la patologia o quando già la patologia si è manifestata senza aspettare che peggiori e la pari opportunità che questo significhi presa in cura e presa in carico cioè capacità del sistema di non lasciarti solo questa è l'equità orizzontale e questa è l'equità verticale questa è l'equità fra diversi e questa è la diversa comportamento che consente l'equità fra uguali e sono davvero le dimensioni nelle quali ho scelto tre categorie a casa ma credo che siano davvero quelle sulle quali se dovessi fare delle scelte di priorità oggi le farei sono quelli che hanno meno sicuramente strumenti o più difficoltà a difendersi in condizioni le più disparate e non parliamo solo di malattie ci potremmo mettere dentro gli aspetti che riguardano la gravidanza piuttosto che la prevenzione del gioco d'azzardo patologico piuttosto che qualunque stile di vita non adeguato legato al disagio economico quale non sapere scegliere quale sia l'alimentazione corretta o non poterlo scegliere l'incapacità di capire di un servizio è difficile per noi anche a volte capirlo qual è quello nel quale devo andare e chiedere a porre la domanda perché può succedere che se la pongo in modo sbagliato anche la risposta sia sbagliata certamente il rapporto con le risorse è un rapporto per noi rilevante dal punto di vista della nostra necessità di essere accanto quindi di saper trasmettere trasparenza idea di legittimità di integrità è un capitolo molto scomodo e molto difficile ma certamente anche una grandissima opportunità in un contesto come quello di questa provincia che di queste opzioni ne offre a decine tutti i giorni interlocutori con i quali lavoriamo valore aggiunto dagli stessi rendicontazione del modo in cui utilizziamo le risorse che questi stessi insieme a noi generano potrei fare n esempi ma voi che state sui territori queste cose le vivete quotidianamente lo sapete benissimo generano valori per una cosa che oggi anche Norman aveva un po' di titubanza nel filmato a dire che si chiama bene comune cioè che è una cosa che posso dire non è se non voglio ripetere la stessa parola non è tutto il mondo uno schifo dice alla fine quando discuteva il compagno quello era il compagno della mamma e quindi fare le cose soltanto per delle finalità che non siano quelle legate a un bene comune che può riguardare tutti è collegato strettamente a questo il tema ovviamente della capacità di assumersi la responsabilità delle scelte delle priorità la capacità di rendicontare di essere accanto di costruire attraverso la nostra trasparenza attraverso la legittimità delle scelte esterne e interne ammesso che esista una differenza sia quando diciamo sì sia quando diciamo no sia quando accordiamo un ascolto si spera la maggior parte delle volte sia quando uno spazio per l'ascolto non ci può essere perché quello che non può non esserci è la spiegazione del perché questo non può non esserci questo non lo accetta neanche un bambino nemmeno un bambino accetta la spiegazione dell'assenza di un perché quando noi prendiamo delle decisioni e quindi la capacità di rendicontare dentro fuori passa attraverso la nostra capacità di spiegare perché anche se possiamo non essere d'accordo sui perché possiamo non essere quello che non possiamo fare assolutamente non spiegare perché assumiamo decisioni a volte è difficile anche spiegarlo perché nel senso che devi non posso dire non dire tradire delle cose accettare che il mondo è complesso però bisogna dirlo polvere sotto il tappeto non ce la perdona nessuno va bene queste cose le abbiamo sostanzialmente dette e infine quello che tutto questo probabilmente genera il valore assoluto di quello abbiamo più bisogno che passa attraverso tutte le narrazioni che abbiamo fatte la fiducia la fiducia dentro e fuori organizzazione la costruzione di fiducia la costruzione di un valore di un potenziale enorme sia quando noi la costruiamo insieme ai cittadini sia quando la costruiamo all'interno dell'organizzazione e percepire che noi siamo come nella prima diapositiva permeabili siamo permeabili siamo in grado di far entrare un cittadino nella nostra organizzazione e dirci questa è una cosa fatta male quindi la cambiamo quello che il cittadino rispondeva dice mi ha telefonato un addetto e mi ha chiesto scusa sono molto sorpreso di questa questa tridicenda che chi si occupa di risk management sa benissimo che è la variabile numero uno nel rapporto di ricostruzione della relazione per chiedere scusa lo è fra persone nella convenza civile figuriamoci includerla includerla la fiducia lo citava anche questo prima la dottoressa Costinelli il patrimonio di costruzione di fiducia e il valore intangibile sul quale noi costruiamo diciamo così la nostra condizione di non isolamento noi vogliamo capire chiaramente il contesto in cui siamo dimostrare chiaramente che vogliamo capirlo come abbiamo fatto nelle condizioni nelle situazioni in cui abbiamo costruito con le comunità le case della salute e le nostre esperienze di community lab e di co-costruzione di senso nei progetti nei quali i cittadini si sono seduti con noi a dire quali erano le loro esigenze aspettative quando sono sbagliate gliela abbiamo sbagliate quando non siamo in grado di rispondere oppure gliela abbiamo detto il problema è quando tu non lo dici non lo spieghi io sono il pubblico che molte volte erano anche idee ci scappa sempre ci scappa sempre è difficile non ce l'abbiamo nella quando facciamo io lo vedo quando scriviamo un testo quando quando scriviamo un idea un progetto anche se va fuori cominciamo sempre dalla descrizione dell'organizzazione di come siamo noi ma chi se ne frega la cittadina non frega niente di come siamo noi dentro a noi frega non importa questa è una cosa che interessa a noi ma se non gli raccontiamo è come appunto Maria Rosaria che mi diceva io telefono e mi rispondo al servizio clienti e chi mi risponde del servizio clienti mi risponde i problemi che c'è a lui ma chi se ne frega dei problemi che c'è a lui ti chiami customer service ma tu mi devi dire il problema a me non me ne frega niente il problema che hai tu se tu c'è un problema se si chiama altrimenti cambiamo nome al customer service non chiamiamolo più customer service lo sfogatoio del call center quelli che lavorano nel call center si sfogano dicendo quali sono i loro problemi dov'è la vivoli anche la vivoli gli ho detto cambiamola questa cosa del blog perché c'è scritto distretto di Mirandola ma cittadino non gliene frega niente di sapere in che distretto è rispetto al blog delle mamme deve partorire gli interessi delle altre cose non gli riempiamo la testa con delle cose che interessano noi chiaro sapere dove andare ma sapere che quella è un'articolazione organizzativa che si chiama così si chiama partiamo sempre da noi e allora i cittadini cosa fanno siccome noi partiamo sempre da noi si vanno a cercare come non dico niente che nessuno di voi non sappia non faccia partiamo da ricercare perché questo problema dell'osmosi della comunicazione dell'essere dentro un sistema in modo che i cittadini come noi dicono sai cosa c'è di nuovo ma chi se ne frega che tu non mi dica una cosa io adesso me la vado a cercare tanto non ho bisogno che me la racconti tu anzi aspetta che tu me la hai raccontata adesso potrebbe essere vera non apriamo questo fronte ma facciamo che gliel'abbiamo raccontata male allora la cosa peggiore che noi possiamo fare è non esserci è la cosa peggiore poi non che noi non abbiamo nessuna intenzione di risolvere la complessità del mondo la complessità del mondo aumenterà esponenzialmente fregandosene bellamente del nostro tentativo di semplificarla quindi assunto questo assunto questo la cosa importante in questo contesto è che noi ci siamo Emanuela Carobbi non si offenderà se gli ho cambiato dove era Emanuela non si offende Emanuela siamo d'accordo noi ci dobbiamo essere poi permettete il termine sul linguaggio organizzativo i cittadini useranno le cose che noi mettiamo a disposizione nel modo in cui nel modo che credono più opportuno noi dobbiamo fare di tutto per essere presenti credibili come e più ma questo non dipende io ho una professione scientifica tecnico-scientifica ma non dipende dal mio sapere tecnico-scientifico perché se io dico sono medico mediamente la risposta è chi se ne frega cioè non è una risposta questa non è una risposta questa è posso dire la dottoressa Costinelli è infermiera la dottoressa Caruso è medico questa è una qualifica non è una spiegazione poi è chiaro che ci sono cose che voglio che vengano fatte da persone che le sanno fare ma questo non è automaticamente una relazione e noi vogliamo essere presenti nella costruzione di quella relazione perché noi vogliamo che il cittadino si fidi non perché io sono medico o infermiere o ostetrica perché questo è un dato di fatto è assunto è evidente che mi trovo in quel posto perché ho quella laurea quella specializzazione quel diploma so fare questa questo è fuori discussione 99,9% non è questo questo è evidente che noi siamo lì per quello parliamo di altro parliamo di cose che nel mondo nel mondo comune che noi utilizziamo quando cerchiamo dei rapporti di agenzia diversi l'assicurazione sulla casa sulla macchina il rifarsi casa in qualunque contesto uno mica si sostituisce all'ingegnere strutturista io no di sicuro ne ha bisogno però una cosa è questo e una cosa è avere una relazione di fiducia tant'è vero che uno dice però aspetta bene viene qui mi dice delle cose ma io non ci capisco niente non vorrei che con queste cose che non ci capisco niente alla fine mi vengono raccontate delle robe che non sono esame e questo è stato il nostro problema per 40 anni è ancora il nostro problema dobbiamo usare le cose che sappiamo fare meglio degli altri e l'abbiamo visto prima nella prima parte come le sappiamo fare bene e le dobbiamo mettere all'interno di una capacità che sia reale da parte del cittadino di vedere che noi le facciamo bene ma le facciamo con lui non è in discussione siamo partiti dai risultati abbiamo visto il green code per dire che le cose le facciamo bene non è questo se bastasse fargli vedere il semaforo al cittadino noi siamo questo quindi lei si fidi non funziona così lo sapete bene e non funziona così in una complessità che scusate io banalizzo sto per terminare perché è evidente che noi facciamo cose molto diverse le unie dalle altre abbiamo relazioni molto diverse sono professionisti che hanno un rapporto col cittadino che dura tre giorni e ci sono professionisti che hanno un rapporto con il cittadino che dura 30 anni quindi è evidente che non possiamo avere codici e metriche uguali di risposta dobbiamo costruirle è per questo che siamo qui a parlare di principi perché un principio su tre giorni di contatto è declinato in un modo lo stesso principio su 30 anni di contatto con la famiglia col paziente col vicino di casa di pianerottolo è declinato in un altro però il valore è lo stesso però non crea fiducia nello stesso modo è evidente su 30 anni hai voglia a costruire la fiducia su tre giorni sono quattro cose che non devo sbagliare se sbaglio quelle quattro è finita non ho tempo per recuperare su 30 anni se ne ho fatte per 10 bene ne sbaglio una ho tempo per recuperare e questo è un esercizio non sono tutti però per noi questo è l'albero della vita e la nostra relazione straordinaria con le associazioni non aggiungo molto ne siamo parte ringrazio tutti quelli che nella giornata della restituzione hanno partecipato hanno risposto alla sollecitazione che avevo dato o che lo faranno di restituire un po' di tutto quello che questo territorio straordinariamente ci dà per noi questo è centrale per noi questo è fondamentale questa è la nostra comunità e noi abbiamo assolutamente bisogno di non solo di ricevere perché non dobbiamo pensare io non penso al volontariato soltanto come qualcosa questo è welfare generativo tutti noi insieme al volontariato possiamo generare welfare non siamo qui a ricevere la copertura di quello che il pubblico non può fare questo è anche vero a volte non è che non lo può fare è semplicemente che il volontariato lo fa nettamente meglio come ho detto più volte ma è qualcosa di più qualcosa di più è la generazione di valore insieme queste sono i nostri rapporti con un'altra parte del mondo che è stata esclusa per varie ragioni che è il mondo dell'impresa che è straordinariamente importante anche esso per motivi diversi che ci dà delle grandi opportunità e che noi vogliamo assolutamente perseguire come una grande ricchezza abbiamo lavorato con tutti questi partner senza ricevere e chiedere a nessuno di questi partner un minimo contributo che fosse anche soltanto di un euro ma realizzando rapporti di collaborazione che fosse semplicemente quello di mettere un marchio di fianco al nostro un marchio in cui la gente ha fiducia che costruisse fiducia per osmosi perché è vicino a un marchio del servizio pubblico con alcuni abbiamo stiamo costruendo progetti di welfare di azienda perché non andare ovviamente nei luoghi cosa che facciamo già per i nostri cittadini a costruire insieme offerta di servizi se questo può essere meglio fatto soprattutto in alcuni ambiti che riguardano la prevenzione è ovvio è un rapporto complesso è un rapporto difficile è un rapporto che bisogna costruire con la dovuta trasparenza con la dovuta attenzione è un rapporto straordinario per gli elementi carattere culturale è un rapporto che soprattutto posso garantirvi l'impresa guarda con un'attenzione enorme io sono in questo territorio da pochissimo ma so so che a parte iniziative un po' estemporanei Ferrari e Champion avevano fatto ben poco con l'azienda in passato eppure sono due realtà cruciali con noi stanno facendo e hanno fatto delle cose di vera partnership e questo credo che sia basato sul fatto che non avevano percezione che il pubblico semplicemente interessasse poter generare valore in un territorio che ha anche gode di per me per noi fare un'attività di promozione della salute legata ai corretti stili di vita e poterci mettere a parte le fotografie che abbiamo visto ci sono io tripi bigarelli coperti c'è un freddo terrificante la maratona della Cempio poter mettere il nostro marchio vicino a quello della Cempio nella giornata in cui si fa l'attività la promozione dei corretti stili di vita attraverso lo sport e la maratona per noi è sicuramente un modo per convincere più persone a fare una cosa che il nostro interesse può muovere fare non parlo della collaborazione con Democenter perché si spiega da sola finisco abbiamo sicuramente due passaggi critici certamente per la loro rilevanza uno nel rapporto con l'università come altro portatore di interesse di questo territorio ma mi preme sottolineare l'opportunità data dal fatto e lo dico anche guardando in questo caso i temi che riguardano le professioni sanitarie noi abbiamo dei setting che l'università o discute con le aziende territoriali o semplicemente non li ha non li ha perché l'idea di costruire aziende ospedaliere universitarie in questa regione e in altre regioni è logica ma richiede oggi dei cambiamenti importanti che già stanno avvenendo perché alcune opportunità formative sia di poter contare sulla disponibilità di neve giovani professionalmente evolute culturalmente evolute che lavorano in contesti nei quali diciamo è possibile generare valore anche da giusta iniezione di linfa vitale ma anche il contrario la disponibilità di contesti nei quali noi offriamo la possibilità di formare che oggi non c'è paziente che un internista o un infermiere che deve vedere un paziente cardiologico se va in ospedale dovrebbe due giorni per tre giorni se vuole vederlo deve venire in una casa da salute deve venire in un ospedale di comunità vederlo in un laboratorio di un medico di medicina generale altrimenti semplicemente non lo vedrà e per noi questa è una grande opportunità di metterci in gioco di metterci in discussione di capire cosa possiamo offrire e anche cosa possiamo ricevere e certamente poi anche il rapporto con ovviamente l'azienda ospedaliera qui ho soltanto di tutto questa operazione di cui non posso dire che sono stufo di parlare non abbiamo finito faccio vedere solo la delibera come sapete è stata operazione di un cambiamento è ancora un cambiamento in corso in cui molti denti e molte rotelle non girano ancora completamente nel verso giusto ma sicuramente ha fatto di noi un'altra azienda e come vi ha detto un collega dell'ortopedia dell'azienda ospedaliera ieri ha fatto un'altra azienda anche dell'azienda ospedaliera poi ho aggiunto un commento che non dirò perché bisogna avere contezza rispetto al fatto che cambia non è il lego metto un mattoncino metto un altro mattoncino però il limpia resta uguale cambia tutto cambia tutto e cambia non cambia né meglio né peggio dipendendo da quello che noi riusciamo a costruire in temi di valore rispetto a quello che noi dobbiamo fare questa l'abbiamo già spiegata tutta dopo il materiale lo renderò disponibile è l'incrocio della matrice fra tutto quello che noi tutti i portatori di interesse di cui abbiamo citato e in ascisse tutte le variabili che per noi generano fiducia e valore la chiarezza la velocità la vicinanza l'umanità la disponibilità e che in modo diverso si esprimono per tutti questi interlocutori allora per finire quali sono le nostre pietre miliari per il futuro all'insegna di questi valori le pietre miliari che riguardano il nostro futuro le cose sulle quali ci impegniamo a lavorare declinando nella quotidianità quei valori nel modo di fare abbiamo anche già definita nel contenuto l'abbiamo detto sul team work sulle professioni dunque la prima è questa ammetto essere una paranoia del direttore generale che la costruzione di un sistema che riguarda più diciamo così la direzione strategica sicuramente però è un sistema di business intelligence che oggi non ha nessuno noi oggi abbiamo quantità voglio solo dirvelo perché capisco che per voi possa essere per molti di voi una cosa di interesse relativo anche se poi in realtà alla fine non è così abbiamo quantità impressionante di questi tutta questa roba qui non genera alcun valore da sola e sono numeri numeri i numeri da soli non dicono niente i numeri generano informazioni conoscenza intelligenza e riescono a determinare la capacità di prendere decisioni con un grado di sintesi capacità di vedere la direzione prima che questa stessa si sia concretizzata non di fare di ogni decisione un tecnicismo che le decisioni non sono tecnicismo anzi se no il management non servirebbe ma di utilizzare la quantità impressionante di informazioni che oggi abbiamo che sono come non so è come lo Shanghai buttate lì e le devi spostare una per un per cercare di arrivare a capire che cos'è quello che ti sa non possiamo continuare a lavorare in questo modo perché non la tecnologia non è un problema di un prodotto c'è un solo problema c'è troppa troppa e questo crea ci vuole un disegno strategico un'intelligenza in grado di generare le informazioni ogni volta che parlo con qualcuno di voi dei colleghi tutti mi dicono ma io dovrei sapere questo mi piacerebbe sapere questo mi piacerebbe conoscere questo questo è costruire intelligenza dai dati i dati sono stupidi da soli sono solo raccolti si capisce che mi sta a cuore questa cosa basta non dire anche questa è autoesplicativa che dire noi siamo soprattutto questo siamo generatori di salute l'abbiamo detto prima e poi la salute non è tutta la salute del mondo la salute è tutta la salute possibile tutta la salute è possibile per contesto per individuo per malattie presenti non è tutta la salute del mondo non è la definizione dell'OMS discutibile per molti tutta la salute che si può qui non abbiamo messo nessun testo perché non credo che esista neanche una sola attività nella quale noi facciamo dal modo in cui parliamo al modo in cui lavoriamo in cui non ci sia la prevenzione c'è sempre in tutto magari noi non ce l'accorgiamo e non accorgendoci non la decliniamo adeguatamente non c'è un posto dove si fa prevenzione i posti dove si fa prevenzione sono migliaia momenti dentro e fuori dal lavoro non è un problema di risparmio è un problema di ottenere più grandi risultati straordinari risultati e di nuovo non sto parlando di tutta la prevenzione possibile rispetto al fatto che non ti sia ancora venuta nessuna malattia no no continueremo e l'abbiamo visto prima ad ammalarci e come rispetto alle generazioni che vengono ma mia però io rifiuto l'idea che io non debba fare prevenzione alcune non sono particolarmente piacevoli ma comunque alcune forme diciamo così di diagnosi precoce non di prevenzione però e perché questo è quello che è e non c'è un luogo ma questa è la prevenzione questa è l'addetto la prevenzione è quello che si occorre quindi è un problema suo è come il rischio il rischio il rischio il rischio la sicurezza è una cosa che riguarda il rischio io sono un clinico non mi frega sono un infermiere a me non interessa questa è una cosa che riguarda il rischio il rischio il rischio il rischio il rischio non so se c'è ma è un problema suo non è così chiaramente e così è lo stesso per la prevenzione a parte il nostro lavoro tutti i giorni tutto quello che quotidianamente facciamo qui noi stiamo facendo cose lo posso dire ne sono cioè ne siatene orgogliosi state facendo cose straordinarie e io spero vivamente da qui alla primavera di poter dare un'ulteriore concretizzazione dei risultati che stiamo ottenendo rispetto a l'applicazione di luoghi nei quali con i colleghi della medicina generale gli infermieri i consultori i pediatri di comunità tutti quanti non voglio citarli tutti dimenticherei stiamo costruendo la salute del territorio la salute punto e lo stiamo facendo davvero per tutte le categorie e quello che non vorrei lasciare indietro sono i pazienti che possono fare ancora tanto della loro vita oppure quando non possono fare tanto noi possiamo fare tanto per loro io ho perso mio padre a 92 cioè lui aveva perso mio padre a 92 anni era non autosufficiente da diversi anni però è stato a casa non è mai stato ricoverato in ospedale mai non aveva come i colleghi infermieri sanno benissimo non aveva una piacata del pubblico non aveva niente non aveva solo un gravissimo Parkinson e poi ovviamente non ha avuto dolore mai non ha avuto un sintomo fuori controllo mai e per fortuna non avendone bisogno non ha chiamato come ho detto già più volte mia madre mai il 118 non avendone bisogno perché non c'è bisogno invece questa cosa io ho sempre considerato che questa cosa fosse una salute residua per mio padre a parte che aveva una testa era lucido quindi diciamo era il corpo che era il sarcofago ma io ho considerato che questa cosa fosse salute era salute per me io penso che lui la considerasse salute non era più in grado di dirmelo ma era salute è un caso estremo però secondo me quella era salute era tutta la salute possibile fino al momento in cui è morto non avere sintomi non dover andare avanti e dietro all'ospedale avere chi poteva prendersi cura della sua non autosufficienza ho tolto potere medicine neanche un farmaco e e questo io ho sempre considerato che lui fosse una persona in salute e questo per noi è una cosa sulla quale noi dobbiamo e sicuramente stiamo facendo cose straordinarie e ci ritorneranno come riconoscimento molto più che diciamo così a volte dichiarazioni di intenti che su questo si sentono anche di diciamo così lotte di posizione di retroguardi rispetto a alcuni ambiti della medicina territoriale come le case della salute e no scusate ho dimenticato ecco e l'altro l'ultimo punto sui quale l'ultimo milestone sul quale puntare è questo questo tema della capacità di gestire i processi complessi se vogliate richiamiamo percorsi di cura li chiamiamo i PDTA li chiamiamo come volete che sono garantiscono la qualità della presa in carico nel lungo periodo con una cura non per singoli luoghi o momenti ma per singolo caso che garantisca l'integrazione dei servizi e questo ci dà la possibilità di fare due cose di gestire per percorsi la popolazione nella sua interezza secondo i principi declinati dall'health population management che diciamo così dal punto di vista sociologico vengono definiti normotetici e quelli stessi gestiti da ogni singolo individuo che si trova all'interno di quel percorso di cura col suo nome cognome le sue caratteristiche gli aspetti della sua casa della sua famiglia del cane che ha perché magari è l'unica compagnia che ha dei farmaci che singolarmente assume del suo pensiero anche se poi lui è ricompreso all'interno l'importante è che lui non senta di essere dentro al gomitolo che è quello che spesso sente di essere dentro quello al gomitolo che interessa a noi e che è molto meglio di me trovate definito qui credo di aver anticipato alcuni dei contenuti e quindi di lasciarvi all'ultimo minuto della video che abbiamo interrotto prima Trevor McKinney Trevor devi essere piuttosto fiero di te no non sei fiero per niente non lo so credo di sì avanti hai dato inizio a un movimento come passa il favore e non ne sei fiero non lo so per me certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possono essere diverse insomma il mondo il mondo non è tutto quanto merda ma credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono anche se sono brutte cambiare e le persone si arrendono e quando lo fanno poi tutti tutti ci perdono grazie veronica galvani ha realizzato tutto il materiale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti